Ehi, buongiorno! Ale, dove vai? Dove è papà? Andiamo a vedere papà. No, papà è in bagno. Non si può andare da papà. Cosa vuoi? No, vuoi il latte. Vieni, adesso ne do ancora. Ci prepariamo? Buongiorno! Secondo giorno nella grande città. Mamma mia, siamo stanchissimi. Quindi, programma di oggi, allora, incontrare mia, se ce la facciamo. Allora, ok. Programma di oggi, dicevo, andremo a Piazza di Spagna, Piazza del Popolo. Piazza del Popolo, dovevamo andare a vedere Villa Borghese. Io volevo passare da Mac, quindi entrerò da Mac per la prima volta. E... dopo vediamo che ore si è fatta. E... niente, andiamo a fare la collezione, mi sistemo un po' là. Bene, siamo quasi pronti per partire. Fuori c'è una giornata bellissima. E... dimmi... Puoi venire ad aiutare, per favore? Sì, stiamo provando a far fare Alessandro i suoi bisognini nel water. Eh... cosa c'è? Cosa stai facendo? Non ho appena accesso. Sei un lì, sai? Cosa stai combinando lì? La papa. E non dai, stai facendo la papa lì, sai? Da una manaccia di pagare. Adesso andiamo nel nostro negozietto di fiducia che abbiamo trovato ieri sera a comprare un po' di frutta per oggi a mezzogiorno. Ho visto che abbiamo mangiato schifezze praticamente ieri. Possiamo affermare che il traffico qui è una cosa allucimante. Mai visto? Mai visto una roba del genere? Adesso andiamo a fare i figli in via condotti. Sì, è il tre! Tu, no, al cinema! Dicevo, adesso andiamo a fare i figli in via condotti, cioè a guardare gli altri che comprano. E oggi pomeriggio incontreremo mia e Giada. Sono troppo contenta. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Prese finalmente Top e il Prolonger Concealer dopo tre anni! Abbiamo un bastone per i selfie! Eccoci a Villa Borghese! Grazie a tutti! Non vuole più stare fermo e io li sto rincorrendo perché non riesco a fare neanche le foto. sono ancora pieno di mal di gole devo prendere da Ttp. e io li sto rincorrendo perché non riesco a fare neanche le foto. e io li sto rincorrendo perché non riesco a fare neanche le foto. e io li sto rincorrendo perché non riesco a fare neanche le foto. e io li sto rincorrendo perché non riesco a fare neanche le foto. e io li sto rincorrendo perché non riesco a fare neanche le foto. e io li sto rincorrendo perché non riesco a fare neanche le foto. e io li sto rincorrendo perché non riesco a fare neanche le foto.